Dopo 50 anni praticamente di lavoro, un po' di più, più di 50 anni che lavoro, forse scopro solo adesso di aver avuto una carriera, perché in realtà non ho mai pensato a quello. Ho sempre pensato a un lavoro dopo l'altro, a un successo o un insuccesso dopo l'altro. E sono veramente lusingato e onorato di ricevere questo premio, che mi fa, sono contentissimo di questo. Entrare in un centro stile forse non è così difficile, però è difficile emergere. Il mio consiglio è quello di iniziare comunque a fare qualche cosa, non importa in che campo, pur che ci sia un po' di creatività, un po' di originalità, quello che si fa. L'importante è poter dire, questo l'ho fatto io, quindi iniziare con cose piccolissime. Dobbiamo cercare delle strade alternative, cioè non solo la strada dei centri stile, delle case di automobili, ma poter vedere realizzato qualcosa sul proprio disegno anche su scala molto piccola.